Il turismo in Toscana continua la sua scalata e nel 2018 fa registrare una crescita di presenze del 3,8% rispetto al 2017, con il traguardo superato dei 48 milioni di presenze. I dati presentati nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze sono quelli del rapporto di IRPET e certificano che i mercati esteri, Stati Uniti, ma anche Canada, Europa dell'Est, Argentina, Russia e Cina, crescono del 4,1%, seguiti dal mercato interno, più 3,4% trainato dalla Lombardia. Da qui la necessità di continuare a lavorare sull'accoglienza turistica. C'è bisogno di struttura, c'è bisogno di un approccio sistemico a questo settore, c'è bisogno di un rapporto costante di accompagnamento ai territori, agli enti locali, alle aggregazioni territoriali. Bene nel 2018 le città d'arte, più 6,8% e le zone rurali e collinarie, più 7,6%, con il boom del Valdarno Aretino, cresciuto del 16,4%, aumento meno consistente per la montagna, mentre non cresce il mare. La concorrenza è ritornata imperiosamente, ci erano offerte che non esistevano più negli ultimi anni per tantissimi motivi, soprattutto nel sud del Mediterraneo e che ora stanno ripresentandosi sul mercato. Sul fronte delle strutture ricettive trainano gli agriturismi seguiti da affittacamere, bed e breakfast, insieme agli alberghi di fascia alta, i 4 stelle in particolare. Lo sviluppo di prodotti particolari e di prodotti per nicchia serviranno a qualificare meglio il territorio della Toscana. Penso al wedding, penso all'outdoor, penso ai temi del lusso che vedono in tutti questi tre ambiti la Toscana, in termini di wedding e di lusso, essere la prima regione d'Italia. Nel 2018 in Toscana è cresciuta anche la disponibilità di posti letto, più 1,1%, anche se un po' meno rispetto al decennio 2008-2018, a più 1,2%. Grazie. 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 Grazie.